Abbiamo appreso con una certa trevidazione, ma anche con una liberazione del cuore, l'arresto, l'assicurazione allo Stato e alla giustizia di questo boss mafioso che per 30 anni, Matteo Messina Denaro, è stato latitante. Da una parte sentimenti di gratitudine alle forze dell'ordine, a tutto l'apparato dello Stato, che per quanto lentamente assicura comunque alla giustizia e dunque dà sicurezza a tutti i cittadini di volere perseguire davvero i valori di libertà, di democrazia e di equità. Dall'altro certo rimane sempre un po' inquietante il fatto che per 30 anni quest'uomo abbia probabilmente avuto delle coperture, delle garanzie e non sia stato assicurato alla giustizia italiana. È comunque un segno di incoraggiamento e tutti vogliamo unirci a questo come a tanti altri momenti di lotta e di combattimento nella nostra terra di Sicilia, anche le comunità cristiane, che nei Vescovi, nei fedeli e in tanti cristiani, come Padre Puglisi, come Livatino, hanno combattuto e vogliono combattere le forze avverse del male. Ma certamente tutti noi vogliamo impegnarci anche a vivere una vita coerente di giustizia, nella quale evitiamo il più possibile i compromessi, siamo esigenti con noi stessi, siamo fedeli alla legge, alla legge di Dio, alla legge degli uomini, ma vogliamo anche assicurare la nostra collaborazione, la collaborazione piena di tutte le comunità cristiane dell'isola per il progresso della pace e della giustizia nella nostra terra.